Benvenuti, bentornati nel nuovo episodio del podcast di iPhone Italia Io sono Claudio Sardaro, adesso mando la sigla Ciao Giovanni Longo Ciao Claudio Sardaro Benissimo, benissimo Abbiamo una puntata ricca di argomenti Abbiamo tante novità Abbiamo appuntamenti già fissati per i bisi a venire E le settimane a venire Quindi Giovanni Al di là dei complimenti reciproci Che ci siamo fatti insomma la settimana scorsa Ma, cioè no meglio La settimana scorsa ci siamo fatti in complimento Quest'imana ti rilancio il complimento Per la grande performance europea Diciamo così Sperando insomma che per entrambe le squadre Il cammino continui Infatti Juventus, Lazio, ma anche la Roma Perché sinceramente Erano tanti anni che non avevamo due squadre di quarti di Champions Sì, infatti Vuoi aggiungere qualcosa? No, no, stavo pensando ai complimenti Ho detto ma di cosa starà parlando? Stavo pensando al podcast Stimamente avevo rimosso Ehm Dai, sono contento E Ci ho detto Claudio invece Facciamoci i complimenti Allora Facciamoci i complimenti Che è bello quando uno si fa i complimenti da solo E la gratificazione massima Allora Sono contento che vi sia Diciamo dei feedback Che ci avete lasciato Grazie mille Ehm So che la La divisione in capitoli Insomma è E' piaciuta Io vi ricordo però Solo Dove ne potete godere Ne potete godere direttamente dal In realtà dal sito Perché un po' di mesi fa Claudio Penso bene di mettere il player Direttamente nell'articolo Su iPhone Italia Per cui Se proprio non avete sbatti E come dicono a Milan E potete tranquillamente Utilizzare anche il player Sulla pagina web E da lì effettivamente i capitoli li vedete Se cliccate sui C'è un'icona Tipo a forma di libro Poi Per vedere i capitoli I rispettivi link Stessa icona Che c'è Sull'app Spreaker Se utilizzate Da dispositivo mobile App Spreaker Potete Potete quindi Navigare nel podcast Più che altro A me piace tantissimo Claudio Il fatto anche Della suddivisione Oltre la suddivisione in capitoli Il fatto Quindi poter schippare Ehm Una visione anche più di insieme Sugli argomenti E poi la possibilità Di aprire un link Quindi molte volte Se parliamo di Di qualche argomento Di una foto Di qualcosa Da far vedere E mi piace Che abbiamo fatto Quest'upgrade Siamo diventati Quasi youtuberistici No vabbè quasi Ehm Quindi sono 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 contento Ehm Ci Ci prende un po' di tempo In più per farlo Però Diciamo che Questa è una delle novità Del podcast Di questa stagione Per il resto Puntata super ricca Io quindi direi di cominciare Claudio Una settimana Di novità Anche in attesa Novità Notizie Approfondimenti No vabbè Scherzando Più che altro novità Come dici tu Giovanni Novità Soprattutto Lato Apple Finalmente Ma Soprattutto Lato Eventi Perché Abbiamo saputo Insomma Abbiamo conosciuto Le date Di due eventi Soprattutto il secondo Giovanni Che avevamo Sperato Ci potesse essere Ma è stato annunciato Così all'ultimo minuto Tra l'altro Nel giorno di lancio Di altri due prodotti Tre prodotti Molto interessanti Parliamo di Mi Mix 2S S2 Insomma Del prossimo P20 O meglio Dei prossimi P20 Di Huawei Uno dei quali P20 Lite Abbiamo Già potuto Scorgere online In questi giorni Lo avremo presto Anche noi Quindi Vi porteremo Alla recensione Su tech.it Vi invitiamo Chiaramente A seguirci anche lì Ma soprattutto Il giorno 27 marzo In cui Apple Ha indetto Una conferenza Education Educational Chiamiamola così Dove Molto probabilmente Non solo vedremo Del software Pensato Per le scuole Per facilitare L'apprendimento Per cambiare Non lo so Probabilmente anche Il modo di vedere Le cose Spero Giovanni In un aggiornamento Anche della suite interna Di Apple Di iWorks Oppure un abbandono Totale di questa Perché Sinceramente Così com'è Funziona Per carità Però Non so che senso abbia Meglio aggiornarla Un po' Svecchiarla Comunque Renderla Più 2018 Ecco Ma probabilmente Vedremo anche Dispositivi Abbiamo visto Un presunto In settimana Un presunto iPhone SE 2 Abbiamo sentito Del Diciamo Di una possibile Uscita sul mercato Di un Macbook Economico Probabilmente Vedremo anche Dei nuovi iPad Dubito che A questo giro Però non lo so Eh poi Giovanni Questa cosa Di questa cosa Ne discutiamo insieme Dubito che si possa Vedere un iPad Costoso In questo evento Perché essendo Un evento Education Educational Chiaramente Bisogna anche Fare i conti Con chi Poi acquisterà Questi prodotti E' vero Che oggi La voglia Di comprare Qualcosa Che funzioni Meglio Faccia qualcosa Di più E tanta Ma nello stesso Tempo Non so Quanto abbia Senso Fare questo Discorso Per prodotti Che dovrebbero Essere Indirizzati Di un pubblico Più business Se parliamo Di prodotti Più costosi Si possono fare Alte mille Valutazioni Probabilmente Apple Queste cose Non ne pensa Nemmeno Però Volendo Ragionare Con un attimino La testa sulle spalle Probabilmente Quei prodotti Più costosetti Li vedremo dopo Anche perché Non ci dimentichiamo Che l'ultimo iPad Pro Da 10,5 pollici E il nuovo iPad Pro Insomma E l'altro ultimo iPad Pro Da 12,9 Sono usciti Meno di un anno fa Quindi Non lo so Fino a che punto Apple Voglia fare un refresh Di quella linea Prima che passino 12 mesi Anche se E' già successo In precedenza Ma forse In un'epoca In cui Gli iPad Tiravano di più Si 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 Tra l'altro Li avevano allungati I tempi Ultimamente Di vita Del prodotto Sugli iPad Per cui Credo che Quanto meno Quel Segmento Lì sia Relegato Alla WWDC Più che altro Prodotti Educational Claudio Che sappiamo Essere comunque Relegati Alla Alla Fascia Ai prodotti Entrileve Del mercato Come giusto che sia Proprio settimana Scorsa Mi sembra Parlavamo Dell'iPad 2 Restato in auge Non all'istino Tantissimo tempo Poi esattamente Perché Apple Aveva appena cominciato Un piano education E lo voleva portare Nelle scuole Per forza di cose Non è che puoi portare Un tablet Da 600 dollari 500 Nemmeno Quindi diciamo Ed effettivamente Parlando Quando parlavamo Di quel MacBook Air Insomma No È inutile Rifare il discorso Di scorsa settimana Però Effettivamente Io avevo Ho dimenticato Una Una possibile Un possibile Riscontro Ieri Quando ho visto L'evento Ho detto Ah Eccolo qua Ecco perché esce Effettivamente Avrebbe un senso Avrebbe un senso Se quel MacBook Air Riesce a piazzare Ovviamente Un prezzo Competitivo Ma Magari Per Per gli studenti Allora Lì Un iPad Economico Qualcuno parla Dell'iPad 2018 Magari E il 2017 Che resta O comunque Boh Chi lo sa Comunque sicuramente Parleremo di un iPad Di fascia Bassa Per quanto Si possa considerare Di fascia bassa Sempre un iPad Perché Un discorso Un po' Un po' Stranno Sugli iPad E Un MacBook Magari Un Air Non lo so 799 Dollari Magari Boh Per quanto Non è che sia Poi economico Mi vengono in mente Anche delle macchine Discrete Windows Però vabbè Quello è il solito Discorso È inutile farlo Tutte le volte E Effettivamente Poi vediamo Sicuramente Qua parliamo di Education Ci sarà anche Del software Sappiamo che iPad C'era quel Class kit No Che era stato Introdotto Nella WWDC No Un evento A parte Adesso non me lo ricordo Però Non ricordo Però Credo Perché di solito Quando si fanno queste cose È sempre qualcosa di legato I nuovi aggiornamenti Però Sto ricordando anche un altro Evento educational Di Uno o due anni fa Forse era in quell'occasione Ma comunque Perché mi sembra Non fosse arrivato Più avanti Tipo con un punto due Punto tre Comunque adesso Al di là di questo Con cui si era introdotto Una specie di multiutenza Per le scuole In cui ogni utente Ogni alunno Poi Aveva il proprio account Diciamo così Possibile che ci sia Una rispolverata Di tutto quello Possibile che ci sia Un'accelerata Magari Insomma Apple vuole Ci ha sempre tenuto Effettivamente A entrare in quell'ambito A tecnologi Tecnolo Oddio Come si dice Render Tecnologizzarsi Tecnologi Vabbè insomma Mi avete mandato Dal logopedista Praticamente No dai E niente Quindi ci sta Secondo me ci sta Allora E' chiaro che Da un punto di vista Un po' più cinico E di business Entrare nel settore Educational Vuol dire anche Concedetemelo questo Diciamo Magari Fidelizzare Un po' O rendere Qualcuno direbbe A suoi fatti Magari In un'ottica Negativa Qualcun altro Direbbe In un'ottica Positiva Diciamo Un utilizzo Più consapevole Della tecnologia Da parte Degli alunni E' chiaro Che un'azienda Che vende Tecnologia Vuole fidelizzarli Da piccoletti E' anche vero Che senza Nasconderci Adesso Senza passare Al cinismo Agli aspetti Poi negativi Della tecnologia Eccetera E' chiaro Che Oggigiorno La tecnologia Arriva in mano Ne discutevo A casa In realtà Qualche giorno fa E molti ragazzetti Adesso magari Le elementari Hanno già il telefonino E Quindi Diciamo che Non sarà Apple Alle scuole medie Tanto per dire Metterti il tablet In mano Per la prima volta Questo diciamo di no E da quel punto di vista Forse un uso più responsabile Della tecnologia Qualora si facesse Potrebbe addirittura Diventare positivo Visto che Se ne viene a contatto Molto presto E probabilmente Non Con gli usi Migliori Non sto pensando Agli usi leciti Però A volte la tecnologia Può essere Anche un Intrattenimento Molto passivo E magari Per i ragazzini Non Necessariamente Il miglior uso Possibile Ci ho detto Questo probabilmente Sarà qualcosina S2 Abbiamo visto Un Fake Dai Non ci credo Tra l'altro Era stato un po' Smentito Questo Possibile S2 Però io gli lascio Un 10% Residuale Di speranza Ma lo so Claudio Però Non lo so Non lo so Il discorso è che sarebbe Un prodotto molto complesso Diverso Rispetto A quelli della gamma Attuale Piuttosto Mi aspetto Una versione Diciamo Di un colore diverso Dell'iPhone X Che magari Non abbiamo visto Che abbiamo Intravisto Qualche giorno fa Però Sinceramente Più di questo No L'SE2 Avrebbe senso Comunque Nell'ottica Di voler rinnovare Un prodotto Che inizia a diventare vecchio Il peso degli anni Di sicuro Tra qualche tempo Lo sentirà Soprattutto con gli aggiornamenti Che vedremo a settembre Per quanto Si dice che Apple Voglia Portare E poi ci arriveremo Insomma Un iOS 12 Semplicemente Migliorato Dal punto di vista Dei bug Della stabilità di sistema Tutto quello che vogliamo Sicuramente Spero Insomma Che sarà meno invalidante Rispetto a quelli che Abbiamo visto Lato Obsolescenza Diciamo così Negli anni Su altri dispositivi E quindi Mi riferisco a Che ne so L'ultimo aggiornamento Che ricevette O il penultimo Forse che ricevette iPhone 4S Che effettivamente Lo stroncò Così come Accade anche Con l'iPhone 4 Così come abbiamo visto In parte su iPhone 5 In parte su iPhone 5S Insomma Già meno Già meno Già meno In parte appunto Era inteso Così Chiaro è Che non è che Possiamo pensare Che i dispositivi Che abbiamo in mano Durino una vita Perché sarebbe anche Strano il contrario E comunque Elettronica di consumo Ci sono beni All'interno Che sono Come dire Consumabili Però è poco reale Come prospettiva Poi non lo so Per carità Le vie di Apple Sono infinite Come si dice Per altre cose Però In questo caso Ci riferiamo Di un'azienda Che sicuramente Vuole trarre del profitto Non l'ha nascosto Claudio Diciamo di cosa Stiamo parlando Perché In questo video Si vedeva Sostanzialmente Un iPhone X Non so dire Se è più piccolo Perché non ci avevo Nemmeno fatto caso Però Face ID No c'è Quant'altro Semplicemente Con un frame Squadrato Con la stessa colorazione Per questo Diceva Claudio Prima Dell'iPhone X Scuro Francamente Una roba del genere Presentata come S2 Quindi Al prezzo più basso Possibile Cioè In quel caso Di sicuro L'azienda Dovrebbe rivedere Un attimino La politica Di prezzi E Alzare la sticella Su un prodotto Che fino ad oggi Più che Più economico È stato scelto Per la dimensione Quindi in effetti Possiamo dire Estraneandoci Un attimino Dalla situazione È chiaro Che avrebbe senso Portare un dispositivo Più piccolino Con uno schermo Più ampio Che ha anche Un bel colpo d'occhio Però Nello stesso tempo Stroncherebbe Un po' Tutto l'altro mercato È vero Che la Apple Che conoscevamo Noi Diceva Che non chi se ne frega A cannare O meglio Per starsi i piedi Da soli L'importante È che si compri I prodotti Apple È vero questo Però Però Nello stesso tempo L'azienda Che c'è oggi Sicuramente Ha un occhio Più verso il profitto Rispetto a questa cosa Perché se un design È a 1200 L'altra a 400 No no Quello è irreale Proprio Che abbia acquistato Quel prodotto Per uno schermo Più piccolo O semplicemente Perché voleva un iPhone E quella era L'alternativa Più economica Sebbene molto Molto valida Dal punto di vista Hardware Perché comunque La piattaforma Hardware Era quella del 6S Per cui Niente da dire Io non saprei Rispondere a questa domanda Nel senso È Dura Dura Però Mia conoscenza Molti l'hanno acquistato Per il prezzo Perché comunque Sì Apprezzando sicuramente Un design Di uno schermo Più Un design In realtà Più compatto In generale Però Dura 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 A dire questo E per questo Questo porta via tutte le domande Per cui Se l'S È solamente Il device Di gamma Più economico Assemblato In modo che sia Diciamo Più economico possibile Eccetera L'S2 Potrebbe uscire Anche domani Dopodomani Potrebbe avere Qualsiasi fattezza Potrebbe essere Potrebbe essere Anche un 6S Per dire Da 16G Ma adesso Dico per dire Scalato A 400 dollari Cioè Tutto può essere Qualora lo fosse Economicamente Sostenibile Per Apple Economicamente Sostenibile Intendo Nel Nel rispetto Dell'obiettivo Di business Da raggiungere Se è uno schermo Più piccolo Bisogna Riassemblare Un altro dispositivo Quindi prendere Ecco Componentistica Ad altri iPhone Rimetterle In uno schermo Da 4 pollici E già C'è un po' più Di sbattimento In questo caso Boh Non lo so Io Su questa cosa Magari può essere Già residuale Vi dico che Boh Anche se fossi Apple Non saprei Cioè Senza avere i dati Di vendita Eccetera Mi Trovo difficile Capire Però è chiaro Che L'aumento Dei prodotti Ricondizionati Che si sta vendendo Ne abbiamo anche pubblicato Un articolo Apre una domanda C'è tantissima gente Che vuole iPhone E non vuole spendere 1200 euro Nemmeno 1000 E nemmeno 800 Ma forse Nemmeno 500 E forse Certo L'utente se ti dimostra Probabilmente Nemmeno 500 Che fai Lo perdi O te lo accaparri Dipende da quello Che questo utente Può offrire Perché Come abbiamo Sempre detto Il Concetto globale Di piattaforma Che Apple Porta avanti Di servizi Di possibilità Non è un aspetto Secondario Forse è l'aspetto Primario In questa storia Quindi È difficile Anche capire Così Su due piedi Cosa Un'azienda Di questo tipo Preferisce È chiaro Che rispetto A quello Che abbiamo più Visto Insomma Ripeto Come detto Un poco fa Quello che è stato Sono stati Gli ultimi 18-20 mesi Di Apple Sicuramente Ci fa capire Che il profitto È stata Una delle prime Voci Che l'azienda Ha voluto vedere Sul bilancio Annuale Di tutti i prodotti Immessi sul mercato Un po' perché Ci sono degli azionisti Che chiedono Questo È anche normale Funziona così Anche In queste grandi aziende Un po' perché Sicuramente Il settore Smartphone Oltre che Tutti gli altri Che abbracciano Insomma Il business Di Apple Sta diventando Sempre più Veloce Per quanto Statico Perché sicuramente Si cambia Smartphone Meno spesso Rispetto a 10 anni fa Più che 10 anni fa Scusate Rispetto a 5-6 anni fa Però Nello stesso tempo Quando si cambia Smartphone Si cambia Smartphone In modo Oculato Quindi magari Oggi Le persone Sono disposte A spendere 100 euro in più Rispetto al passato In prospettiva Di mantenere Quello smartphone Molto Quindi Si avrebbe senso Comunque Come discorso Nel senso che Non è che Uno compra un iPhone SE 2 Oggi E domani lo butta Probabilmente no Quindi Comunque Apple come la fa Cade in piedi Perché tra l'altro Gli iPhone SE Che ci sono adesso Sicuramente Per 6-7-8-10 mesi Rimarranno sul mercato E' un dispositivo Che non è che va a ruba Ma nel frattempo Comunque si vende Quindi Di scorte Sono sicuro Che ce ne siano Poi non so Cosa vuole fare L'azienda Io credo Che prima o poi Diciamo che Ti stavo chiamando Apple Benissimo Quando hai prodotti Riesci a marginarci Talmente tanto Come abbiamo sempre detto Puoi Avviare un determinato Tipo di business Che non prevede La quantità Massiva Di terminali Quindi questo Ha sempre spinto L'azienda Su prodotti premium Di non Cercare mai L'iPhone Virgolette Economico E se non l'ha mai fatto Anche nei momenti In cui la stagnazione Non lo so Io penso al Mac Non lo hanno mai fatto Poi qualcuno Mi potrebbe dire Che l'ultimo Teo Come dicevamo L'altra volta L'ultimo MacBook Air L'ultimo MacBook Pro Lì venduto Quello grosso Per tanti anni Però comunque Col cacchio Che era economico E anzi Rispetto a quello Che offriva Probabilmente era Più caro Di quando era uscito Però Adesso Al netto di questo E E il Mac Certo Il mercato computer Probabilmente sta anche Leggermente calando Da un po' di anni Il Mac in realtà È molto stabile Incredibilmente stabile Anche nel corso degli anni Però Anche lì Quando Sul Mac Si poteva pensare A una strategia Più aggressiva Allora O tornando ancora Più indietro nel tempo Mai Mai è stato fatto Non è stato fatto Nemmeno Se ci pensiamo Cioè è stato fatto Per Per poco Se ci pensiamo Anche su iPad 13 trimestri Comunque Con vendite Che calavano Rispetto al trimestre Precedente Certo L'iPad 2017 È un iPad Economico Se vogliamo Vederla Dal Punto di vista Sempre Della media Dei componenti Dei prodotti Perché Hanno poi Presentato i pro E li hanno messi Molto molto in alto Però L'iPad 2017 È diciamo Un po' Un MacBook Air Della situazione Per quanto sia Totalmente più nuovo E totalmente Un'altra storia Da raccontare Però Se non sono caduti Nella tentazione Di comunque Provare a sfondare Su una certa Soglia di prezzo Per cominciare A prendere Quel mercato Più numericamente Importante Ma che magari Non garantisce Lo stesso Ritorno In termini di servizi Come diceva Claudio Prima Difficile Che lo possano fare Comunque su un carro Che traina Ancora parecchi buoi Come quello Dell'iPhone E quindi Niente Io e mia Quindi alla fine Concludiamo Secondo me Potrebbe anche Non esisterci Cioè Scalare Magari ci sarà Ma non sarà così E non sarà adesso Sì 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 Ecco soprattutto Ma magari Hai visto che i prodotti In line up Ce ne sono un po' Magari scalano I prodotti Che ci sono Come si faceva una volta E E E E Perché non è che S è Una sigla Che hanno inventato Così Ma non è che Cioè non credo Francamente In quel Copia e incolla Di componenti Per quanto avessero Poi dato origine A un prodotto Più che degno Anzi E Quella sigla Quel prodotto Apriva un nuovo Brand di sottoprodotti O di linea O sublinea Ma quindi mi sembrava più Una Una roba Una tantum Per cui potrebbe anche Non uscire mai Un SE2 O chissà quando O chissà come Sì Tranquillamente sì Credo che possiamo andare avanti Sulla WWDC Claudio Perché noi stiamo parlando Dell'evento il 27 marzo Ma Apple ci ha Deliziato Con Con questa nuova moda Ovvero Di Presentare Di annunciare gli eventi Non più Come si dice Tecnicamente Sotto sotto Comunque Come ci avevo abituato Ultimamente Ovvero Veramente A poco Dal termine Adesso 4 giugno Abbiamo già la data Da WWDC E Quasi quasi Sappiamo anche Quello che andremo a vedere Claudio parlava prima Di S12 Comunque di un sistema Che dovrebbe Puntellare Molti molti aspetti Poi qualche novità La vedremo In tutto questo Claudio Tra WWDC E 27 marzo Vedremo Perché se ne è parlato In settimana E mi sei venuto in mente Tu Mentre ne parlavi Nello scorso podcast La famosa AirPower Il famoso Astuccio Delle Airpods Wireless Addirittura Si era parlato Di un nuovo Modello wireless Che però Poi alcuni rumors Addirittura Piazzavano Poi l'anno prossimo Quindi tra 12 mesi Però effettivamente Tra Tra una roba E un'altra Mi sembra che le Le Airpods Siano state presentate Nella WWDC Di due anni fa Quindi Boh Eh Eh Sì Allora il discorso è che Sicuramente durante Uno di questi eventi Le Airpower Saranno Annunciati Svelati Svelati Vabbè Sarà annunciato Più che altro Il prezzo Il Il tempo Di arrivo sul mercato Il nuovo astuccio Delle Airpods Di sicuro Non penso Che non vedremo Un paio di Airpods 2 Ma semplicemente Un nuovo astuccio Così come aveva detto Apple Sì Giovanni Non so Cioè Questa è una notizia Che Si prende La si dà E basta In realtà Quindi Boh Vedremo Ecco Qui posso dire Solo vedremo Vedremo Lo scopriremo Solo vivendo Per il resto Vabbè La WWDC Sappiamo Ci sarà del software E Tutti gli aggiornamenti Previsto Vabbè Ne abbiamo parlato Già su quello che ci sarà Sicuramente Ne parleremo Più in là Mi sembra Stupido Adesso fare delle speculazioni Ripeto Anche perché ci hanno già spiattillato Più o meno tutto Per cui E E quello è Però parlando di software Claudio In settimana In settimana un po' di software Devo dire che Chi tratta di Di Apple Parla spesso di software Con varie declinazioni Spesso non così Losingere positive In questa settimana È arrivato qualche Rumors Sull'HomePod Sulla realizzazione Sul team di Siri Noi ne abbiamo parlato Un po' Ed effettivamente È arrivata un po' Una Conferma Un po' A quello che Avevamo detto Anche intuendo Semplicemente Dai racconti di Luca Che l'ho acquistato O dalle recensioni Abbiamo letto Che il team di Siri Ha saputo del progetto Solo nel 2015 Quando A fine 2014 Solo dopo Che Amazon Presentò Alexa Che addirittura Questo speaker A cui Diciamo Questo side project A cui lavoravano Alcuni ingegneri Del suono In Apple Addirittura All'inizio Non prevedeva Siri Ed effettivamente Da quello che ho visto Un po' La sensazione C'è Non sembra Allora Sembra un prodotto Apple Su certi aspetti Sull'aspetto di Siri Eccetera Si perde un po' Cioè Non sembra un prodotto Io non so come spiegarlo Però Sembra uno Di quei tanti prodotti Che A cui magari I tech bloggers Amano fare le pulci No? Però questo Non è coerente Questo così Questo con lì Sono considerazioni Che facciamo spesso anche noi Effettivamente Siri Sembra un po' Appiccicato lì Per tante piccole Soluzioni software Che avrebbe potuto avere Non ha Si può fare Questo discorso Su Siri Su iPhone Per carità Anzi Lo facevo in settimana Su Twitter E poi Quando sai che cosa Cioè Cos'è successo Così Fai due più due Effettivamente Il team L'ha saputo solo dopo Poi ha fatto Un adattamento In più Questo rumor Si raccontava Tutta una serie Di vicissitudini Che il team di Siri Ha dovuto Affrontare negli anni Più Abbiamo letto Un'intervista Di uno dei Creatori Della startup Siri Che era un po' Scettico Sulla linea Che ha preso Siri Nel senso che Lui diceva Noi abbiamo realizzato Siri E lontano dal concept Che noi avevamo realizzato Perché noi avevamo pensato Non ad un assistente vocale Ma A un set Di istruzioni Per fare Molto Apple Diciamo come Fusilosofia Poche cose Ma fatte bene Loro avevano pensato Tipo A degli scenari Di utilizzo Tipo Prenotami un biglietto Adesso che parto Per giorno tale E lui Bello lì Lo faceva Però Qualcosa di lontano Dall'essere un assistente A tutto tondo Quindi qualcosa Di molto specializzato Fa quello fine Apple Poi l'ha preso E ha cominciato A stravolgere Il framework Abbiamo letto Da questo rumor Che Inizialmente Non era progettato Tutto Tutto il framework Tutto il back end Per accogliere Il numero di richieste Che poi è arrivato E ciò ha necessitato Una lunga Riprogettazione Di tutto il framework Finché un ingegnere Ha riscritto Gran parte del codice Secondo me Perché addirittura Si parla che Delle query Che avevano bisogno Di 200 server Poi Sono arrivati A girare Su solo 5 Quindi Lavoro di ottimizzazione Del software Diciamo Di un certo Di un certo livello Impiegato del mese E quindi Abbiamo letto Poi Questo lo sapevamo Che molti Si sono succeduti Al trono Del team Molto spesso Ci sono state Delle Delle differenti visioni Su quello che dovrebbe Cioè Su quello che sarebbe Dovuto essere Lo sviluppo E qualche lotta Tra il team Che si preoccupava Dell'aspetto umano Umanoide Del natural Speaking Quindi diciamo Tutto quell'ambito lì Invece Al team Diciamo Più orientato Allo sviluppo Delle soluzioni Questo ha rallentato Poi lo sviluppo Di app terze Che già Steve Jobs Aveva predetto Però pensate Quanti anni Sono passati E Questo ha portato A Siri Quello che è Effettivamente Però è migliorata È migliorata Tanto E continua Ad avere Dei buchi Enormi E quindi Sarà quello Sarà sempre Un progetto Laterale In cui Apple ci sta Mettendo Tanti impegni Tanti soldi Tante energie Migliorerà Piano piano Così L'unica critica Mi sento di fare A Apple Che forse Dovrebbe Spenderci Ancora di più Perché Non lo so Mi vengono Ecco Un utente Spero di ricordare Credo sia Un nostro ascoltatore Del podcast Benito Mi ha dato Una notizia Lietissima Io ormai Avevo perso Le speranze Avete presente Che se dite Ehi Siri Chiama Claudio Sardaro Lui non Cioè Lui ti chiama Claudio Sardaro Però Tu glielo stai dicendo A voce E poi Magari Avevi le mani occupate Non potevi Mettere in via voce Adesso se gli dici Ehi Siri Chiama Claudio Sardaro E metti in via voce Lui chiama Claudio Sardaro E metterà in via voce Metti in via voce Io non sapevo Cioè Ci ho provato mille volte Mi stizziva No no In realtà Questa cosa funziona Perlomeno dall'anno scorso Mi stizziva il fatto Che trovavo In macchina soprattutto È comodo Trovavo inconcepibile Se per caso Non hai il bluetooth Attivo all'auto Comunque non c'è il bluetooth Ti trovi in un'altra situazione È molto più semplice Fare una chiamata In questo modo Però Magari c'è qualcun altro Che aveva perso le speranze Come me E si era persa la notizia Effettivamente a me Fa una grandissima Utilità Mi piacerebbe molto sapere Ma sicuramente Conoscendo i miei polli Chissà se gli dico Switch Passamelo sul macbook Visto che il pulsante Per passarlo adesso c'è Grande comodità Di continuity Poi me lo fa Ma secondo me non lo fa Perché figurati E Prossimo step Magari si suono Con le cuffiette Oltre a dirmi Ti sta chiamando Claudio Magari Ecco Una di quelle piccole cose Che io non trovo inconcepibili An cui non ci avevamo pensato Ti sta chiamando Claudio Vuoi che rispondo Davvero assistente? Sì Magari È vero che con l'airpods Basta un tocco Basta L'apple watch Quello che volete Però effettivamente Abbiamo fatto tutto Sto sistemino Che funziona Senza interagire Senza interagire Eccetera Infatti vuoi rispondere No Oppure magari Sto chiamando Claudio Lui non mi risponde Sì Prende la parola Dice Claudio Non ti risponde Vuoi che Lasciargli un messaggio? Sì Claudio Beh ti faccio tardi Ci vediamo 13 minuti Sto pensando Sto pensando a scenari Alla Blade Runner Inconcepibili Credo di no Però quello ti farebbe Già Assaporare Un certo senso Di assistente Che adesso è più Una scimmietta Scema Che ti fa quattro cose Ci ho detto Benvenuti in Siri E va bene Quindi Giovanni E niente Che cosa ti vogliamo dire Su questa WWDC In più? E no Io no Niente Cioè nel senso Voglio attendere Voglio attendere Speriamo 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 in novità Più che altro Voglio sperare Che ci siano Qualche novità in più Rispetto a quelle Che ci hanno spoilerato Altrimenti Noi il 4 giugno Andremo al mare Io e Claudio E l'evento Lo guarderemo Dalla spiaggia In LTE No no L'evento lo faremo Però effettivamente Spero che ci sia qualcosa In più Perché effettivamente Potrebbe essere Un po' Una WWDC Un po' Un po' In tono minore Rispetto agli ultimi anni Poi ragazzi Quello è Purtroppo Adesso L'effetto Wow è più Centellinato Ma questo Lo diciamo tante volte Ed è giusto Che sia poi così In tutto questo È arrivata la beta 6 Di iOS Di iOS 12.3 Tanta roba Funziona veramente bene A questo punto Claudio Tanto è uscito L'ultima beta 6 Diciamo Nella notte Credo Tra l'altro Probabilità Che sia Annunciato 12.3 Il 27 marzo Credo Tendenti Al 99 9.9999% Diciamo Visto Questa Questo timing E sempre Parlando Di Software Allora Ieri Ieri credo sia uscito Almeno ieri l'ho visto È uscito Un bellissimo spot Sul Face Face ID Non so se Claudio L'ha visto Senti no Tu mi sei in giro Allora io ve lo racconto E poi tanto ve lo linkiamo Con il solito capitolino Con il link Blah 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 E Allora Il Lo spot è veramente figo Ed era da tanto Che non vedevamo Uno spot così bello Secondo me Tanto che io addirittura Me lo sono andato a rivedere Stamattina Perché mi è tornato in mente Mentre facevo la scaletta E Si vede sta ragazza Che Sblocca il suo iPhone E poi Guarda gli armadietti E gli armadietti Si sbloccano Automaticamente Quindi lei comincia a guardare Gli armadietti E Nel corridoio Di una scuola Comincia a fare le acrobazie Ta ta A guardare compulsivamente Destra sinistra A modi Karate Sapete quei film Un po' così E E tutto si apre automaticamente Entra in un laboratorio Di disegno Si aprono tutti i cassetti Vai in un laboratorio Di chimica E si aprono i barattolini Ed escono E saltano fuori le rane E però è molto simpatico Così sembra un po' cretino Come spot Effettivamente non è che Cioè Però è più simpatico Di quello che sembra Finchè esce da scuola Dopo aver fatto un macello Semplicemente guardando Le cose che si aprono Le arriva una notifica Di iMessage Prende il telefono Lo sblocca Lo guarda Sblocca anche il telefono E se ne va E c'è un tizio Con una collana C'è proprio un catenaccio Attaccato al collo Sei di questi Stile nuovo gangsta Che va tanto in giro Che si sgancia il catenaccio E gli cade per terra No? Molto simpatica Veramente bellina Quei mattacchioni Credo di diverge Comunque dell'internet Che hanno scoperto Sull'internet Che è Se guardate Proprio bene bene Io non ci avrei mai fatto caso Giuro Nell'animazione In cui si vedono I messaggi arrivare E lei chiede Gli sblocca Allora Premesso Quando vi arrivano Molti IMessage Anzi questo Te lo chiedo a te Claudio Io non ho mai fatto caso A questa cosa Però non so se Accade solo su iPhone X E questo mi aprirebbe Anche un discorso Praticamente Quando ne arrivano molti La notifica Viene raggruppata Non avviene Quella roba Di 200 notifiche Sotto ogni messaggio Io non so Se questo avviene Su iMessage O avviene solo Su iPhone X O io non ci ho mai fatto caso Vabbè Su iMessage Succede sempre Ok Non ci ho mai fatto caso Succede anche sugli altri phone Ok Mentre Su altre app Dipende Ok Ok Segno che qualcosa Si possa anche fare Adesso non voglio Aprire tutto il discorso Ma secondo me Basterebbe implementare Già una robetta Più così Va bene Adesso Però Un passo In quella direzione Con iOS 12 Me lo aspetto Che succede Che mentre Il contesto Quindi il rettangolino Della notifica Si allarga Verso sotto Per accogliere Gli altri messaggi Graficamente Viene messo a schermo Prima la scritta E poi Il quadratino sotto Di sfondo Si allarga E' una roba inerziale Diciamo che Non viene fatto Insieme Ok Quindi per un attimo C'è questo testo Sullo sfondo E' un glitch grafico Poi lo chiamavano Bug E' un glitch grafico Ho fatto un tweet In tal proposito Magari ve lo linko E Però diciamo Molti hanno detto Ah ecco La pubblicità col bug Effettivamente E' una roba Che io non ho notato Complimenti a chi L'ha notata Perché vuol dire Che ha raggiunto Un livello nerd E di attenzione Di dettaglio Che ha superato Quello di Apple Quindi si è meritato Un curriculum Spedito in Apple Però Fa sorridere Qualcuno E' con la solita Attenzione ai dettagli E' morta E' sparita E io penso A quello che ha fatto La pubblicità Che se quello E' l'iPhone Cosa mai poteva fare Non è che penso Che potesse Editare in digitale Oddio Tutto si può fare Però E E niente Tra l'altro Non so se sia ancora presente Questo glitch Però mi dicono Di sì E che è presente Da molto Io Non avendo mai fatto caso Che i messaggi Che si raggruppano Potete ben capire Se abbiamo mai potuto Fare attenzione A quell'aspetto lì Però E niente Però Effettivamente Se vogliamo dirlo Apple ha fatto Una pubblicità Dove si vede Un glitch grafico Sì E niente ragazzi Breve storia triste E anche un po' divertente Francamente Però Giovanni Giovanni Le tue storie tristi Eh dai Ormai si parla Un po' di tutto E E va bene così Invece Sul Face ID Non so se hai letto Di Samsung Sì sì Ho letto di Samsung Relativamente Al fatto che Probabilmente L'anno prossimo Insomma Nel corso del 2019 Adotterà Una Tecnologia Simile a quella Del Face ID Ora Abbiamo capito Che Se Se la situazione Rimane questa Anche a livello software Più si va avanti Più la potenza Di calcolo aumenta Più la velocità Del Face ID Diventa interessante Quindi Che Samsung Implementi Una situazione simile Secondo me Non è che ci debba Far Stupire Insomma O come la vedi tu Giovanni Però Magari Apple Aveva ragione Stavo per dire quello Adesso Non per fare Non per fare I soliti discorsi Ma E Diciamo che Oltre il notch E Ragazzi Io Ne abbiamo già Discusso sul podcast Volente o nolente Questa azienda Per quanto Discussa Riesce comunque A intercettare Le attenzioni Dei competitor E dell'utenza Non c'è niente da fare Sarà Sarà anche Mola forza del brand Come diceva Claudio L'altra volta Sarà che comunque Ci provano Sarà Io non lo so Però È quello Questo è proprio innegabile Non è che uno è fanboy Lo vuole dire Non vuole È proprio evidente Cioè Qualcuno Qualcuno ha detto Stanno copiando Questo notch Che magari è stata È stata Una delle cose Più mal viste Però Così è Così è Se mi pare Tra l'altro Abbiamo fatto La lista Dei terminali Che hanno adottato Questa soluzione Pur non avendo Il Face ID Probabilmente Continueranno a crescere È un'azienda Che riesce ancora A determinare A inserirsi In questi contesti E Sono forti Non c'è niente da fare Io invece Volevo farti Un approfondimento Piccolo approfondimento Tecnico Sulla Sulla cosa Che poi In realtà Ho notato E Allora Che poi In realtà Ne dovevo parlare Settimana scorsa Ma non Non c'era stato tempo Praticamente Notavo Questo effetto Ritratto Che adesso Si sta diffondendo Anche lì Chi l'ha Portato Non c'è niente da fare E torniamo lì Al solito discorso Però vabbè Sulle fotocamere frontali Apple lo ha introdotto Solo su iPhone X Sfruttando la True Depth Camera Mentre S9 O il Pixel Lo fanno semplicemente Con la fotocamera frontale Hanno degli algoritmi Di riconoscimento del viso Che poi scontornano E creano Lo sfocato Sul background Sullo sfondo Giocandoci Giocandoci un po' Allora Avevamo visto subito Già dalle prime foto Ti ricordi Quando parlavamo Già delle prime recensioni Che quello di Apple Era uno sfocato Un po' particolare Nel senso Era molto sfocato Sui contorni Aveva quindi Un effetto Un po' naturale Un po' no Aveva sicuramente Uno sfocato Non netto Invece il Pixel Pur non avendo Hardware dedicato A uno scontornato Generalmente Molto Ma il fatto Abbiamo capito Che è molto Più interessante Ma abbiamo capito Giovanni Scusami Se mi permetto Il discorso è che L'elaborazione di software Fa tantissimo Poi sicuramente Un minimo Di In base anche Alla composizione Del sensore Un minimo minimo Di informazioni Di sensore Lo passa al software Quindi È chiaro che Non può fare Determinate cose Ci mancherebbe Però nello stesso tempo Non è nemmeno Merito solo Exclusivamente Della Della Post produzione Ma ti devo dire Una cosa Che per quanto riguarda Gli scontornati Io ultimamente Ho aggiornato Il OnePlus 5T All'ultima versione beta Di Diciamo Di Oreo 8.1 Che è uscita Appunto Qualche giorno fa Sul dispositivo E ho visto Che è stato Migliorato anche lì Quindi Sicuramente Ok l'hardware Però anche lì Il software La fa da padrona Apple Ricordo che Quando è uscita Con l'iPhone 7 Fece uscire Questa Feature in beta Quindi Alla fine Se vogliamo È un qualcosa Di Ancora da affinare E questo Lo vediamo Tutti quanti Però nello stesso tempo È passato Tanto tempo L'iPhone 10 Come dici tu Qualche problemino In merito Ce l'ha No Più che altro Il mio spunto Di riflessione È questo Ma Se ci sono Termini Adesso Quanto sia naturale Bello L'effetto Mettiamolo un attimino In secondo piano Quando vedi il pixel Che con camera singola Anche meglio Dell'S9 Devo dire la verità Ti fa quel lavoro lì Capisci che Ripeto Con fotocamera singola Poi è chiaro Che lo sfocato Sappiamo che È una funzione Totalmente Cioè il software lì Non è come La reflex Che è Crecato Il buchier Ottico Il diaframma L'apertura Di campo Eccetera Di profondità Eccetera Vabbè Lo sappiamo Però se poi Un pixel Un google Ti riesce a fare tutto Via software Già comincia a chiederti Accidenti Tu c'hai anche L'hardware dedicato Come mai Non vediamo Queste Cioè Effettivamente c'è un po' di Al netto ripeto Della Della scelta Che alcune volte Ci può anche stare Ho avuto Una piccola Risposta Con L'update Di Alide Camera Alide con l'h Davanti Alide Camera È una Applicazione Molto Molto Figa Per la Fotocamera Un sacco Di funzionalità Ha introdotto Perché poi Tra l'altro La True Depth Camera Ha le API Dedicate Per cui Qualunque applicazione Domani Potrebbe fare L'effetto Ritratto Come lo fa Apple Adesso Tralasciando gli effetti Però L'ho sfocato Eccetera È possibile Prendere Queste informazioni L'ide Camera Tra l'altro Credo ancora Un po' in beta Ha fatto anche Un'applicazione Molto Carina Perché ha messo Insieme i dati Della True Depth Camera E di ARKit In pratica Voi fate una foto Con La fotocamera frontale Avete presente Le 3D Animoji Di Sony Che ha presentato La Mobile World Congress Voi fate tipo Una foto Poi lo girate E quello vi ha creato Questo pupazzo In 3D Mettendo insieme Lo scatto E ARKit Loro hanno creato Una sorta di Concept simile Ovvero Lui ha la foto Poi lo giri Sfruttando La Depth Camera Quella foto Ha anche Delle informazioni Di profondità E quindi Si vede Questo Ovviamente Poi se lo girate Nella parte Dove lui Non vi ha fotografato Non esistono I pixel Non è che Se li inventa Non fa Poi un'acquisizione A 360 Magari Con un merge Complicato Si può anche Arrivare a farlo Però Adesso Al di là di questo È molto carino Perché guardandolo bene Si vede Un po' Un limite Della True Depth Camera Di iPhone X Almeno iniziale Che è quello Della risoluzione Ma noi lo sapevamo già Perché il numero di punti Era dato Qual è quindi Il problema Dello sfocato Eccetera Che è Quello che ho notato Guardando molti foto E molti esempi La True Depth Camera Su iPhone X Riesce a dare Al telefono Le informazioni Di profondità Quindi A differenza Per esempio Ho visto alcune immagini Del pixel Non so se Avete mai usato Photoshop Qualche tool automatico La bacchetta magica Che scontorna Più o meno In base a dei parametri Che gli date voi Mi è capitato Di vedere a volte Che lo sfondo Molto simile Ai vostri capelli Per esempio Anche il pixel Poi a un certo punto Cioè Lo scontorno È molto facile Quando il contrasto È forte Quando il contrasto Non è forte È molto più complicato Eccetera L'iPhone X Invece Non sbaglia Cioè Se avete uno sfondo Dietro Anche se è dello stesso Identico colore Dei vostri capelli Lui sa benissimo Perché ha le informazioni Di profondità E quindi Da quel punto di vista Non può commettere Errori macroscopici Qual è però Invece Il problema Avendo i sensori Di profondità Una risoluzione Infinitamente più bassa Rispetto all'immagine Questo con quella lì De camera Se voi fate un test Lo vedete Lo capite subito Quando fate anche Questa funzioncina qua Lui ha un'informazione Molto grossolana Cioè Quindi è come se Prendete l'immagine La pixelate Proprio in quadretti Grossi Quindi Dato che poi Il software Sfutta quello Poi per sfumarvi I contorni Lui ha un'informazione Di profondità Quindi sa che Il vostro faccione Riesce a staccarlo Benissimo Dallo sfondo E su quello Non sbaglia Però il problema È che sui contorni Non avendo molta definizione Non ha quell'informazione Quindi Deve fare un merge Di due informazioni Software E Le fa più o meno Le fa Quindi diciamo Media è un po' Il tutto Per questo Voi non avete Quel Quello Bello Scontornato Bello Bello Preciso Perché Lì Voi avete Delle informazioni Molto Mediate Perché Non è Il La Sudep camera Non è molto Risoluta Il proiettore Di punti Adesso non mi ricordo Quanti punti erano Ma erano pochi Poi soprattutto Rispetto ai pixel Di un'immagine Ciao Ma siamo Veramente A un Livello Di Di Grandezze Di misure Di grandezza Diverse E questo è un problema Quindi Diciamo che Mi aspetto Qualora fosse possibile Da un punto di vista Anche tecnologico Maggiore risoluzione Nel futuro Di quella True depth camera Perché può Può fare Far avanti Un salto di qualità Evidente D'altra parte Però Apple Ti chiederei Anche perché Questo va bene Però d'altra parte Se c'è chi Riesce a fare un lavoro Egregio Non avendolo Questo sensore Direi che Dal punto di vista Di squisitamente software Si può ancora lavorare E si può far meglio E Google Da questo punto di vista Ha fatto veramente Veramente bene Quello di Samsung Tra l'altro Anche quello di Samsung È dinamico Ti ricordi quando dicevamo Che l'ho sfocato A differenza Magari dei vecchi software Android Che te lo creavano Magari in post Quello Che Proveniente da Magari la fotocamera Sia posteriore Dei plus Che da quella L'anteriore era dinamico Però Vedendo così Provando anche L'S9 Anche quello Diciamo Sono riusciti Grazie alla potenza Di calcolo A fare questo Dinamicamente Quindi Niente Consiglio numero uno Fatevi Provate un po' A questa lì Da camera Perché è un'applicazione Veramente bella E considerazione due True depth camera Funziona Ha dato un plus Ha dato un plus Sicuramente All'iPhone X Alla sua fotocamera Principale Però Peccato per la risoluzione Non altissima E speriamo che possa migliorare Questo sicuramente è uno degli aspetti Che su cui iPhone X può lavorare Apple può lavorare Sì può lavorarci Ma tra l'altro Sicuramente È in cantiere Qualcosina In merito Credo che sia difficile Pensare il contrario Stiamo parlando comunque Di una delle Delle prime iterazioni Di questa tecnologia Perciò Sì È presto detto Giovanni È proprio Sì 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 Quasi scontato In termini Come dire Di Di evoluzione Tecnologica Sicuramente Sì 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 Beh sicuramente Ne avvantaggeranno Anche tutte le applicazioni Che possono fare Questo tipo di Questo tipo di Di cose Perché no Anche l'effetto sfogato Su fotocamera frontale Che è È migliorabile Da questo punto di vista Sempre parlando di software Consiglio Di 20 secondi È uscito Past 2 Su iOS Io non mi ricordo Se ve ne ho parlato O ve ne volevo parlare E poi non vi ho parlato In qualche vecchio podcast Avevo bisogno di Un software Che mi memorizzasse Mi gestisce Mi gestisse Un po' La clipboard Quando voi copiate Incollate un elemento Chiaramente Tutti i sistemi operativi Tengono in memoria Solo l'ultimo E lo sovrascrivono Lavorando Mi era capitato Di avere bisogno Di fare molti copia Incolla Di più elementi A posto di fare Copia Incolla Copia Incolla Di fare copia 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 Incolla 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 Ci sono molti Clipboard Manager Io ho provato Paste 2 Perché mi piace molto A livello grafico Su Mac Costa una cosetta Francamente Però Se vi serve Una cosetta Nel senso più Una decina di euro Però sappiamo Che poi sul Mac Costano più E' molto carina Graficamente Ce ne sono altre Mi sento però Di consigliarvela Qualora abbiate bisogno Di questo Perché poi ti da La preview C'è in basso Magari Io ve lo faccio Uno screen Lo pubblico Che altro dirvi Praticamente E' uscita anche L'app per IOS Non aveva una companion App per IOS Probabilmente perché Ancora uscita E' gratis Quindi va bene Funziona anche solo Per IOS Però sai su IOS Un clip manager Già Può avere Un'utilità Minore Per quanto possa Sempre servire Ed è gratis Su IOS Si sincronizza Tramite iCloud Con il Mac Di nuovo E' vero che il Mac Sincronizza col telefono In bluetooth Tramite end off L'ultima cosa Che copiate Però insomma E' limitata Devono essere entrambi accesi Tutto acceso Eccetera Questo è carino Si sincronizza tramite iCloud Può servire A volte serve Sai Copi un link Eccetera Poi si possono taggare Mi sento Qualora ne abbiate bisogno Mi sento di potervi dare Questo Questo Consiglio E E niente Ecco Senti Giovanni Vi sono disegnato un'app Io volevo segnare un'app Cross device Per Mac EOS Insomma Che si chiama Parcell Che magari Non sto dicendo niente di nuovo Però Ti dico che Soprattutto quando capita Di fare acquisti online Che arrivino pacchi a casa Una manna Una manna Insomma serve Perché si avvisano le persone Che stanno Che stanno arrivando Certe cose Insomma E' molto molto comoda E Si Si paga una fee annuale Se non sbaglio Parliamo di un euro Ottanta all'anno Come abbonamento Per avere le notifiche Ovunque Funziona con Il cloud Non il cloud In generale il cloud E Giù Funziona Alla grande No Si niente ragazzi Voi fondamentalmente Voi inserite il tracking Del pacco Supporta Praticamente Quasi ogni servizio Quanto a me Europeo Tutti Qualcosa proprio di esotico Magari no Ma 99% Dei E avete in un'app Avete tutti Tutte le informazioni Di tracking Lui se le scarica Ve le mostra lì Vi manda le notifiche E' fatto bene Se avete Un po' di gestione Di pacchi Magari ne ricevete Più di uno Eccetera Avete bisogno Di sapere Quando arriva Quando non arriva Avere un po' di tracking Utilissima Veramente utilissima L'applicazione Se non sbaglio E' anche gratis E c'è solo un in-app Per chase Sbaglio No Non sbaglio Mi sembra Che le info Di basse Sono gratis Mi sembra Che se si sblocca Siano tipo Le notifiche A pagamento Però vabbè Niente di Niente di costoso Tra l'altro E' un ottima Un ottimo consiglio Si Un'ottima Possibilità Ecco Sicuramente Questo si Claudio In chiusura Un altro caso Un altro caso Siamo dimenticati Sì sì Un altro caso Avevamo accennato Prima di Huawei Questa ci mancava Francamente E' uscito un telefono Che a stenti Era stato quasi annunciato In realtà Più o meno Era stato annunciato Io vi racconto Stiamo parlando Del P20 Lite Io vi dico solo Che qualche Ho cominciato a uscire Qualche foto in Italia E E qualche altro Per raccontarvi Il paradosso Qualche giornalista Esperto Blogger Non lo so Di qualche altro Stato europeo Ha cominciato a twittare Del senso Ah ecco Altro che leak Questi dicono Che li trovano Nei negozi Diciamo Spacciando un po' Il fatto che qualcuno Si fosse O bruciato Un embargo O Avesse aperto Una scatola In modo Fraudolento Comunque no E poi siccome Venivano dall'Italia Vabbè Quei soliti commenti Che ne derivano E perché poi Questo povero Cristo D'altronde Ha chiesto Magari Qualche PR manager Del suo paese Che si è sentito rispondere Beh no Mi sembra strano Non credo sia uscito Non è stato nemmeno annunciato Poi Qualche giornalista italiano Fa no Guarda che Ieri è arrivata proprio La cartellina stampa E qua si trova Già nei negozi E nei centri commerciali Ah ok Praticamente da come ho ricostruito La vicenda Questo telefono È uscito È uscito Da una cartella stampa I negozi Se lo sono ritrovato lì Non è stato poi Praticamente presentato E però Forse Non tutti I PR manager Lo sapevano Comunque Non credo Sia uscito Orizzontalmente In tutta Europa Ecco Perché quei tweet Che leggevo io Era di gente tedesca Poi se hanno beccato Qualcuno ignaro Non lo so Però è un evento strano Claudio Molto strano Sì Un evento molto strano Eh Bah Io non so definirlo Secondo me Hanno fatto male i conti Tra di loro Hanno sbagliato Insomma anche A A indire Diciamo Giorni Momenti Conferenze In determinati momenti A quel punto Voglio dire Non so se è stata la logistica La causa Di tutta sta storia Però Sembrerebbe di no Insomma Non so Giovanni Non so Non so Non so proprio Non so come commentarla Sta cosa E come mi commenti Che un prodotto light Esce prima Del prodotto A cui Far riferimento Cioè È uscito il P20 light Ma il P20 non è ancora uscito Beh Tra l'altro Ne anticipo un po' Meno male Perché se fosse stato Il contrario Secondo me Sarebbe stato peggio Meglio lasciare Alla fine Da quello che possiamo sapere È il P20 pro Che sarà effettivamente Un nuovo smartphone Da considerare Un po' diverso Da Da quelli che abbiamo Già visto Di Huawei Quindi Il fatto che sia uscito Il P20 light Che abbia Liccato il design Che già Era stato Ampiamente Liccato Alla fine Non aggiunge Niente di particolare Anche perché Tra l'altro È una piattaforma hardware Che già conosciamo Ben consolidata Sappiamo che funziona Insomma Non aggiunge Nulla di particolare Al mercato Se non Un dispositivo Di fascia Media Su una fascia Di prezzo Piuttosto interessante Anche In relazione A quello che sarà Il prezzo Di qui A 6-7 mesi Quindi non lo so Giovanni La vedo In questo modo Sicuramente Il P20 light Sarà un dispositivo Importante per Huawei Perché storicamente Ne vende tanti Di questi dispositivi Ma allo stesso tempo Quello che Farà più Brand awareness Diciamo così Sarà il P20 Pro Sì 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 Questo è Si è già capito Da quei pochi leak Beh pochi Nemmeno pochi In realtà Diciamo che ci fa strano Perché non siamo abituati Claudio Cioè i light Sono sempre usciti dopo No Da che poi Si inventò Samsung In realtà Con Con i Galaxy Le versioni Come si chiamava Mini Che poi in realtà Erano un altro telefono Che Non ereditavano nulla Ma veramente nulla Dal fratello maggiore E Il P20 Diciamo Già un po' diverso Per quanto Anche lei Anche lui un po' Diciamo E Prende sta strada Ci fa un po' strano Perché Il top di gamma Diciamo Tutte le presentazioni Top di gamma Sono prese un po' Da Apple Si cerca un minimo Di Avere un po' Di segretezza Per quanto ormai Forse oggi Effettivamente Sia uno show Che non sta in piedi Perché tanto li vediamo prima E Quanto me Anche questa è una considerazione Da fare Per carità E Però è vero Che il prodotto Top di gamma Ha sempre bisogno Secondo me Di qualche Ma di qualche Attenzione in più Di un marketing Un po' È vero Sei Huawei Sicuramente Non vendi P20 Per i Keynote C'è un prodotto Quindi Ma forse Si sono guardati Negli occhi C'è la consapevolezza Che Il P20 Lite Che anticipi Le linee Del P20 Effettivamente Come diceva Claudio Poi alla fin fine Non è che tolga Chissà che Sì Toglie un po' La presentazione Ma ripeto Poi li abbiamo già visti Oggi come oggi Gli addetti ai lavori Lo hanno già visto I non addetti ai lavori Lo vedranno in giro Come lo vedono in giro Anche l'iPhone Per dire Ci sta poi Non bisogna Assoluto Cioè Oggi non mi vengono i termini E qui è andata così Però non bisogna poi Prendere Concetti di marketing Tipo di Apple Il Keynote L'unveil L'unboxing Come poi Strategie Iconiche E tutto il resto Sono roba strana Ci sta Fa un po' strano Francamente Fa un po' strano A me è fatto un po' strano Soprattutto perché Huawei Con quella gamma Come dice Claudio Vende Però spinge tanto In alto Vediamo 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 cosa sarà Io sono molto curioso Sono curioso Del claim Anche loro Reinventiamo La fotografia Come voi Non l'avete mai fatta Sappiamo già Delle tre camere Francamente Però E poi Non faranno altro Che credo Secondo me Almeno ha senso Quello che fa Samsung Con una Con la doppia apertura Probabilmente Con due Punti di megapixel Diversi Tutto quello che vogliamo E poi La solita Bianca e nera Sì dovrebbe essere Un doppia cam Dovrebbe essere Un doppia cam A cui siamo più o meno Abituati nelle varie Declinazioni Più la solita Bianca e nero Sì Però Dopo L'S9 Che doveva Rivoluzionare L'ognocco fritto Dopo Huawei Che francamente Lo ribadisco Cioè già Se l'hai giocata A sta storia Con la doppia camera Io ancora ce l'ho lì Perché non amo Solitamente essere preso In giro Perché il marketing Va bene Però Così ho una mia idea Personalissima E va bene Quindi Diciamo che Qualcuno ha detto Eh ma è così roboante Questo annuncio Che Per forza Ma figura Ma vediamo Vediamo Non è che sono scettico Però Secondo me sarà Un ulteriore passo in avanti Non mi aspetto magia Se poi Huawei riesce a fare magia E se li mette tutti dietro In tasca Sarò il primo a dire Signori Chapeau Forse sta cambiando un'epoca Però io Per adesso Ma non perché Huawei Ma per tutto questo Claim che stiamo vedendo Visto che non ha un design Irresistibile A questo lasciatemelo dire Anche loro Punteranno molto sulla camera Come ha fatto S9 Però Ho l'impressione Che sarà un'altra Ottima fotocamera Ma Che Le rivoluzioni Il Reinvented Reimagined Refocused Refshot Repiripacchio Eh sì 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 Sia Perché poi parliamo Del marketing di Apple Però E Tra un po' Insomma Apple lo fa Sicuramente Huawei Se vogliamo dirla così Se deve ispirarsi a qualcuno Si ispira ad Apple Si ispira da un brand Che Comunque ha un certo peso Ha una certa fama Sì Sa quello che fa Per esempio Io Sono veramente curioso Di provare Il Matebook X Pro Che sicuramente Sarà un dispositivo Molto interessante È stato fatto E pensato Su quello Sulla base di quello che Apple Per tanti motivi Non fa E non può pensare Insomma Sì 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 Tra l'altro Magari ne parliamo Settimana prossima Di un Facciamo un Fantaconfronto Surface Book 2 Versus Quello di Huawei Versus Apple Vediamo di Di tirare Qualche linea Così almeno Concettuale Sui Sui vari tipi Di prodotti Sono tutti Molto belli E hanno tutti Qualche grosso difetto Da qualche parte Per cui Può essere anche Interessante Oggi Convertibili Non convertibili Insomma È un tema Che abbiamo già affrontato Però adesso Posso di affrontarlo Come Concept Di prodotti Magari parliamo Di prodotti Concreti E Magari tiriamo un po' Una linea Non so se ti va Claudio Ma si potrebbe Potrebbe anche fare Sicuramente ci saranno Mille altre questioni Diciamo Di cui Ragionare Sono certo Per un modo e tempo Di farlo Concretamente Va bene ragazzi Però anche per questa settimana Abbiamo finito Vi lasciamo un'altra Domenica di pallone E Come direbbe Claudio Sta la Serie A Sta Sì È la settimana prossima Che non sta Ah È vero È vero È vero Però la settimana prossima Parleremo di Apple Eh beh Sì Sì Riguardo all'evento Ragazzi Vi faremo sapere Che cosa organizziamo Comunque Cercheremo di Sicuramente di Seguirlo in maniera Più easy Rispetto al solito Perché Abbiamo capito Che vi piace Seguire Il live di Apple E qui Tanto di cappello Lo rispettiamo E ci mancherebbe altro Però nello stesso tempo Vogliamo come al solito Organizzare qualcosa Fatta Per bene Nel corso di forse Nella settimana E nella prossima Vi faremo sapere qualcosa Ecco Esatto Nella settimana prossima Per forza Perché se no È un problema Non è esclusa Non è esclusa Non è esclusa Alcuna soluzione Un live No assolutamente Un live post Dove ne parliamo Un live podcast Vediamo Poi Francamente Dipenderà molto Anche Dalla ciccia Dalle Novità presentate Francamente Claudio Cioè Però Ci sarà qualcosa Da dire Sicuramente Qualcosa Organizzeremo Quindi restate Sintonizzati Perché magari Sui live Improvvisati È un po' più difficile Chiaramente Lo scriviamo sempre Sul Sul blog Per cui Sul blog Se facciamo qualche evento Sicuramente lo trovate Ma anche sui nostri Canali social Altrettanto Gruppo Telegram Canale Telegram Noi comunque Come podcast Io e Claudio Siamo sempre su Twitter E Scriviamo molte novità Molti spunti Li trovate lì E Eccetera Ci sentiamo settimana prossima Grazie a Claudio Buon weekend Ciao Giovanni Grazie mille Buon weekend anche a te Fate i bravi Ciao 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 Ciao